1, 2, 3, 4, 5 va bene ti raggiungo, ti raggiungo adesso guidi tu aspetta, guarda ah oh ah Oh 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 oh! Oh oh oh! Wow! Ah! A عن ty! Oh! Orvi trarire. Oh 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 Scr 커�. Ahhhh. Oh! isten! ho paura aiuto mamma mia che paura corriamo a 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